tutto quello che ha vinto Marcello ogni tanto era diverso Marcello il fatto di antipatia tra virgolette è stato un campione della prima ora a parte di fatto naturalmente con la notaria e l'antipatia poi i vincitori ce l'hanno sempre lui non è cosa lui a volte a volte diventa